Sotto il sedile della sua auto, fermata durante un controllo stradale all'uscita del casello di Padova Ovest, c'era un ingente quantitativo di droga. Un italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo era alla guida e si è dimostrato fin da subito nervoso con i militari che gli avevano chiesto i documenti. I carabinieri di Abano Terme hanno trovato oltre un chilo di cocaina nella sua abitazione e hanno sequestrato poi due chili e mezzo di hashish. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Padova. Sempre i carabinieri, questa volta a Monseli, ci hanno arrestato un marocchino di 23 anni, scoperto mentre era in auto e alla vista dei militari ha lanciato un involucro sospetto recuperato. All'interno c'era una dose di cocaina. Perquisito il pusher, i militari hanno ritrovato altre otto dosi e quasi 3.000 euro in contanti. Nella sua abitazione invece sono stati rinvenuti e sequestrati 48 ovuli e un panetto da quasi mezzo chilo di cocaina, oltre a 5.700 euro e un bilancino di precisione. Il 23enne è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Padova.